Le fonti Pocket News, eccoci ancora insieme per uno dei nostri appuntamenti di approfondimento in un tempo piccolo e naturalmente anche semplice e agile, approfondimenti che fanno però luce su problematiche davvero importanti e predominanti che possiamo ormai valutare esserlo state per questo anno, visto che siamo a fine anno e possiamo cominciare a fare un bilancio effettivo. Dunque l'anno 2020 caratterizzato, insomma lo diciamo sempre e lo sappiamo, ma lo ripetiamo qui, caratterizzato dal coronavirus, dal covid-19 e soprattutto dalle restrizioni conseguenti e che per la nostra economia hanno avuto e avranno un impatto decisamente importante. Inutile dire che è un anno orribilis, è stato un anno orribilis per tutti i settori, per la nostra economia, in realtà non solo per l'economia italiana, per tutto il mondo, ma noi guardiamo in casa nostra ed è altrettanto forse retorico sottolineare che però ci sono stati alcuni settori maggiormente penalizzati dalle restrizioni, dal lockdown. Non vogliamo fare una classifica dei settori che hanno avuto le maggiori penalità, non vogliamo dare medaglie, però è importante accendere i riflettori anche verso coloro che magari stanno lamentando ancora oggi la mancanza di tutele adatte e sufficienti affinché si possano coprire i buchi che si sono creati appunto durante l'anno 2020. Prima di entrare nel merito dell'argomento di oggi, io voglio ripercorrere insieme a voi alcune stime e previsioni che in questo caso provengono dall'Ocse e che ci danno un'idea di quello che succederà o potrebbe succedere alla nostra economia. Sappiamo tutti molto bene che le previsioni sono ancora provvisorie, naturalmente dopo un anno possono essere già più indicative, però dovremo ancora aspettare determinati step per arrivare alla fine di questa emergenza, per poter dire esattamente quello che succederà. Ma noi ci facciamo aiutare con la nostra grafica, dalla nostra grafica, per ripassare e ribadire quali sono i numeri più importanti che dobbiamo tenere a mente. A partire dal PIL, da prodotto interno lordo italiano, che nel 2020 è calato del 9,1%. Per il 2021 è prevista una crescita del 4,3%. Questi sono dati che arrivano dall'Ocse, per citare la fonte. Per il 2022 ci sarà una crescita del 3,2%. Andiamo avanti con il tasso di disoccupazione, visto che parliamo di lavoro e di perdita di posti di lavoro. Nel 2021 la disoccupazione, il tasso di disoccupazione salirà all'11%, quindi saliremo ulteriormente in doppia cifra. Nel 2022 scenderà leggermente al 10,9%. Terminiamo con il debito pubblico, uno dei più grossi problemi del nostro Paese, quello lo sappiamo, andiamo a vedere che cosa succederà nel biennio 2020-2021, continuerà a sfiorare il 160%. Naturalmente questi sono dati che fanno preoccupare tutti noi, però noi vogliamo anche cercare di guardare con ottimismo al futuro. Questo è un po' il mood delle fonti, anche perché attraverso la voce dei protagonisti del business di casa nostra possiamo magari scoprire qualcosa di più. Oggi, come vedete dal nostro titolo, parliamo di Covid-19 centri estetici, il bilancio di un anno di chiusure forzate. E io saluto, do il benvenuto insomma come al mio ospite, Marco Postiglione, fondatore e presidente di Marco Post, una rete di centri estetici distribuiti in tutta Italia. Marco, grazie per essere con noi e bentrovato. Grazie a te Manuela, grazie dell'invito e grazie per aver, diciamo, accolto questo settore un po' trascurato, diciamo così. Ecco, questo già è un punto di partenza ottimo, per modo di dire, che si inserisce nella premessa che ho fatto. Io in realtà ti stavo chiedendo se, a tuo parere, sono stata troppo catastrofista a parlare di Anus Horribilis. No, diciamo che c'entra completamente quello che stiamo vivendo, ovviamente un po' tutti a livello di tessuto imprenditoriale generale. Questo nonostante il settore dell'estetica sia oggettivamente un settore che comunque, come dire, è molto ricercato, è un settore comunque in sviluppo e quant'altro, ma anche per noi è stato veramente un anno orribile. Orribile. Orribile, infatti, perché al di là delle previsioni poi più generiche sul PIL, sull'occupazione e sul debito pubblico, bisogna appunto considerare che ci sono dei settori meno tutelati e meno rappresentati. Adesso ci arriviamo con calma, Marco. Io prima ti vorrei chiedere quali sono gli elementi caratteristici di questo anno. Cioè, voi siete stati chiusi praticamente per tutti, non i 12 mesi, perché poi le chiusure hanno iniziato a esserci da marzo, più o meno, del 2020. Però da quel momento in avanti voi praticamente siete sempre stati chiusi a parte qualche parentesi di apertura, è corretto? Esatto, esatto. C'è stata una parentesi di apertura che ha compreso comunque agosto, che come possiamo immaginare non è un mese straordinario, no? Per chi vuole fare trattamenti estetici un pochettino più nel dettaglio. abbiamo perso, diciamo, al netto ovviamente tutto quanto il primo lockdown e poi a partire da novembre, tutto quanto il mese di novembre è stato un mese in cui, argomento zone rosse, abbiamo dovuto richiudere di nuovo tutti quanti i centri. C'è stata una perdita molto importante a livello generale proprio di incasse, a livello di fatturato, nonostante ci sia stato veramente un impegno enorme di tutti quanti gli operatori, sia nel cercare di recuperare il più possibile, quindi aprendo anche in giorni che solitamente erano chiusi, aumentando gli orari, incrementando anche gli orari proprio di apertura stesso, dei centri, ma nonostante questo non possiamo negare che è stata veramente una botta enorme. Sì, sono tanti gli elementi, Marco, assolutamente ribadisco un po' quello che hai detto tu, ma per andare ancora più nella questione, gli elementi che si sommano, perché al di là della chiusura effettiva del lockdown, che ovviamente non vi ha permesso di lavorare, dobbiamo mettere in conto che nel momento anche della riapertura, che è stata comunque limitata, è stata una piccola parentesi, voi avete dovuto intanto procedere con tutte le operazioni di sanificazione e io le chiamo comunque di ristrutturazione dei locali di riferimento, perché sappiamo, bisognava rispettare delle regole che prima obiettivamente non c'erano. Poi, con anche la limitazione dovuta, credo, dopo do la parola a te, mi confermi o smentisci, anche l'ingresso dei clienti limitato, perché comunque bisognava moderare l'afflusso delle persone che entravano, mentre prima magari potevano starcene dieci, contemporaneamente immagino magari il numero, non dico che magari fosse dimezzato, ma quasi. E poi, e poi anche con le problematiche relative alla paura delle persone che per prime magari evitavano di venire da voi. Ecco, diciamo che ci sono tanti fattori da sommare, è corretto? Cosa aggiungeresti ulteriormente? Allora, faccio soltanto una specifica, perché questo secondo me è un punto molto importante per quello che poi abbiamo vissuto con il concetto delle zone rosse e la chiusura ingiustificata dei centri in questo momento. In realtà, noi come attività estetica non abbiamo subito nessuna limitazione per il numero di persone da poter accogliere all'interno del centro, perché l'attività estetica, per definizione, non genera assembramento. L'attività estetica è legata a delle cabine estetiche appunto che lavorano one to one e quindi, ad eccezione delle accortezze, ovviamente in sala d'attesa o per alcune declinazioni di estetica, un po' più mi viene in mente la parte, ad esempio, delle unghie, della ricostruzione unghie, dove in alcuni casi ci sono delle postazioni in fila con le persone che si prendono cura appunto delle unghie, ma a parte questa piccola specifica, quindi l'organizzazione della sala d'attesa e queste postazioni speciali che comunque non corrispondono alla maggior parte dei centri, noi in realtà non abbiamo subito dalla riapertura limitazioni legate al numero di persone piuttosto che a dover gestire distanziamenti. Perché? E questo lo sottolineo perché è un aspetto molto importante che voglio poi ribadire per la chiusura che noi consideriamo totalmente ingiustificata con le zone rosse, diciamo con l'identificazione in zone rosse, noi non abbiamo mai avuto problemi di assembramento o di promiscuità, di vicinanza tra le clienti. Mai. Ok. Ci sono stati e è importante anche dire questo, il centro estetico per il suo modo di lavorare, ovviamente un centro estetico intendiamo in regola, ha sempre dovuto avere dei grandi dispositivi di sicurezza che vanno dalla sterilizzazione completa di tutte quante le apparecchiature a la mascherina per alcuni trattamenti, ma ancora prima, molto prima del Covid, piuttosto che i guanti in nitrile. ci sono state ovviamente un'ulteriore messa in adeguamento di tutti i dispositivi perché da, che ne so, il plexiglass alla reception a ulteriori dispositivi per l'operatore dalla schermatura in plexiglass a tutto ciò che abbiamo dovuto fare a livello di, come dire, gestione dei locali, c'è stato un investimento mediamente, un centro estetico ha dovuto spendere dai 1.500 ai 2.000 euro a giugno, tra fine maggio e giugno quando abbiamo riaperto soltanto per rimettersi in sicurezza. Ecco, sì, sì, infatti ti stavo proprio chiedendo se potevamo dare una cifra e me l'hai data. Ovviamente questi, questi soldi sono usciti quando, insomma, dopo mesi di chiusura, quindi ancora più importante, è come se fossero il triplo mi verrebbe da dire, Marco, no? perché chiaramente c'era tutto il mancato guadagno dei mesi precedenti. Assolutamente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, poi ti chiedo anche questa cosa, quando avete riaperto, Marco, cos'è accaduto? Cioè, al di là del fatto che hai fatto bene a specificarlo, diciamo, l'ingresso non si è modificato a livello di numero di persone, no? Questo è importante, però avete notato anche una sorta di timore da parte delle persone, delle vostre abituali clienti o clienti che insomma avevano quasi paura ad entrare da voi proprio per lo stato di paura che si era creato e che si era generato in tutto il paese? Beh, come sempre ci sono poi reazioni diverse con persone diverse. C'è una grande fetta di persone che non è voluta rientrare all'interno del centro estetico per timori di contagio in un certo lasso di tempo molte persone diciamo hanno rinunciato o stanno rinunciando ai trattamenti per paura del futuro. Quindi non c'è tanto non c'è stato soltanto un timore tra virgolette sanitario diciamo così o di salute ma una grande penalizzazione soprattutto se parliamo di trattamenti di estetica avanzata quindi trattamenti per la cura del viso del corpo non parlo dell'estetica base intesa come l'epilazione le sopracciglia le mani i piedi le piedicure una cosa del genere soprattutto in quell'ambito lì ovviamente tante persone con l'incertezza di ma manterrò ancora il posto di lavoro oppure no mi potrò ancora permettere il trattamento oppure no c'è una grande parte ma anche di persone che prima del lockdown stavano seguendo in tranquillità e con entusiasmo programmi che hanno sospeso e questo sicuramente è un aspetto che si è andato ad aggiungere a delle ulteriori perdite esatto assolutamente la provocazione che ti lancio ma insomma nel senso bonario è questo il lavoro come quello dei centri estetici o dei parrucchieri poi arriviamo anche da loro è stato definito un po' è stato derubricato non definito perché poi diciamo le cose come stanno nessuno l'ha definito così ma è stato derubricato come vabbè cose inutili cioè futili inutili e quindi a cui possiamo rinunciare il che è chiaro che a livello personale può essere vero ma a livello economico di business e quindi di lavoro insomma lascia un po' tempo che trova cioè crolla subito come definizione ecco è stato detto però anche questo sì ora io ahimè non condivido neanche la come dire l'affermazione da un punto di vista come dire proprio di in senso assoluto no? perché è stato anche definito accessoria l'attività fisica nelle scuole no 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 ma sono d'accordo infatti assolutamente no so che hai inteso quello che quello che volevo dire ovviamente però dobbiamo mettere in conto l'idea di tutte le persone no? dobbiamo ragionare sulla su un gran numero di persone quindi magari qualcuno potrebbe dire ovviamente ci sono altre priorità io io non lo credo neanche io però ecco per me personalmente ma io ovviamente sono di parte ma non da imprenditore ma da persona appassionata del settore sono dell'idea che la cura della persona in tutti quanti gli ambiti tant'è vero che attenzione il parrucchiere e l'acconciatore e il barbiere è considerato cura della persona anche con le zone rosse non hanno chiuso questo poi è un aspetto che toccheremo ma la cura della persona e l'estetica e uno di questi aspetti rientra secondo me tra gli elementi essenziali ma al di là di questo al di là di questo di questo aspetto che è un'affermazione totalmente personale opinabile e totalmente di parte perché altrimenti non lavorerei in questo ambito qui ma al di là di questo aspetto sicuramente tutto ciò che abbiamo vissuto a livello generale ha avuto un impatto sui trattamenti non indifferenti possiamo dire anche questo però che se da una parte ci sono stati veramente molti clienti che hanno rinunciato ai trattamenti c'è stata una grande perdita diciamo sia durante il lockdown che subito dopo e poi vedremo anche con le zone rosse tutto questo ha provocato anche la chiusura di alcuni centri che erano veramente aperti da tanti anni infatti infatti vai 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 Marco ecco perché dobbiamo secondo me inquadrare bene che cosa intendiamo per il settore dell'estetica noi parliamo di un settore prettamente artigianale la media di dipendenti di un centro estetico in Italia è di 1,2 addetti per centro tradotto è l'estetista il settore di riferimento è il di generato non è il commercio con mediamente un aiutante l'80% dei centri estetici in Italia è sotto i 100.000 euro di volume da fare parliamo di una micro impresa gestita spesso a livello individuale familiare è un'impresa al 99% femminile in cui ci sono tantissime donne tantissime donne che hanno come unica fonte di sostentamento la propria attività artigianale estetica manuale e questo ha provocato una chiusura in buona percentuale di molti centri estetici che al di là della ripresa non sono neanche riusciti a sopravvivere ai tre mesi di chiusura infatti leggevo anche Marco leggevo anche che è un colpo ulteriore al lavoro femminile appunto perché tu l'hai detto assolutamente bene perché insomma in buona percentuale le titolari di centri estetici sono donne quindi assolutamente dovremmo fare i conti anche con questo ma non so se però è possibile dare un numero quanti centri estetici in percentuale intendo dire quanti centri estetici hanno chiuso si può dire o non è noto allora questo ahimè lo potremmo scoprire nel 2021 con il registro delle imprese e la chiusura dell'attività da persona che da vent'anni in quest'ambito che conosce benissimo tutto il territorio nazionale abbiamo ricevuto veramente tantissime segnalazioni c'è fortunatamente un'altra parte di imprenditoria quindi un'altra parte di imprenditoria femminile che invece ha reagito benissimo cioè dalla ripresa ha lavorato benissimo durante tutto il periodo del lockdown tenendo una grande comunicazione con i clienti è ritornata perché semmai sono dei centri altamente specializzati sono dei centri che hanno come dire della clientela consolidata e hanno invece avuto una ripresa una parte di queste imprenditrici hanno avuto una ripresa veramente notevole a giugno luglio agosto settembre ottobre tanto da dire caspita nonostante questa grande botta che abbiamo ricevuto sto riprendendo sto rilavorando sto recuperando qualcosina fino a l'altro lockdown questa volta totalmente ingiustificato zone rosse centri estetici chiusi esatto giustamente tu l'hai ripetuto tre volte adesso infatti ma giustamente ti chiedo c'è stata un po' anche questa polemica non da parte vostra perché ovviamente siamo tutti nella stessa barca centri estetici chiusi e parrucchieri aperti in questa seconda parte in questa seconda ondata di covid appunto nella nelle zone rosse perché secondo te cosa cosa cambiava appunto l'abbiamo già detto no? che insomma il centro estetico rispetta e lo so viene da sorridere però è totalmente è totalmente ingiustificato è totalmente ingiustificato ma hai fatto giustamente Emanuele una premessa importante che ribadisco l'oggetto non tocca in nessun modo acconciatori e parrucchieri ok quindi oltretutto siamo sempre stati assimilati alla stessa categoria la categoria di servizio alla persona l'estetica è sempre stata attività legata all'acconciatura e noi siamo contentissimi che gli acconciatori e i barbieri abbiano potuto tranquillamente possano tuttora lavorare in zona rossa noi siamo rimasti totalmente spaesati scioccati e poi successivamente indignati per il fatto che di punto in bianco senza nessuna motivazione nel comunicare le zone rosse le prime zone rosse partendo da Lombardia attenzione che racchiude il 30% di tutti i centri estetici in Italia voglio sottolineare questo aspetto qua il 30% del mercato nazionale in estetica in Lombardia noi abbiamo avuto la notizia il giorno prima per il giorno dopo per i due giorni successivi che i centri estetici per la prima volta sempre assimilati ai parrucchieri ambito servizio persone il codice ateico è quello dei servizi alla persona ma parrucchieri e barbieri sì estetiste no noi siamo rimasti totalmente spaisati senti se ti dico la parola ristori cosa mi rispondi sono servite almeno in parte le misure messe a punto dal governo nel decreto ristori peraltro si faranno altri step ma questo vi ha aiutati? ma sono totalmente insufficienti e inadeguati per la perdita di fatturato che noi abbiamo avuto che noi abbiamo ricevuto al di là dei vari prestiti che appunto sono prestiti e non sono come dire aiuti veri e propri e qualche dilazione sugli F24 vorrei anche vedere ma in realtà le misure sono totalmente insufficienti un centro estetico che lavora diciamo mediamente possiamo dire che nella media ha 10 12 mila euro di volume d'affari mensili con costi che non dico che sono in alcuni casi pari ai ai volumi ma siamo ma siamo lì le misure che arriveranno quando arriveranno e se arriveranno non copriranno neanche una parte dei tre mesi del primo lockdown non parliamo di quello attuale sì sì assolutamente poi è la tempistica che spaventa oltretutto così ci avviamo anche a conclusioni Marco quello che spaventa ulteriormente è il fatto di non sapere quello che succederà quindi con tutto quello che è già successo nel 2020 fatto che comunque le coperture non serviranno a riempire tutti gli spazi vuoti che si sono creati il fatto che non si sa se ci sarà una terza ondata ci stanno già dicendo che ci sarà ma insomma io eviterei di anticipare i tempi comunque restano troppi interrogativi ecco come state vivendo questo momento soprattutto come state guardando al futuro cioè cosa state chiedendo poi concretamente beh la prima richiesta in assoluto la primaria è quella di poter riaprire anche i centri estetici in zona rossa e qualora le zone rosse riaumenteranno nel 2021 perché i barbieri che lavorano a stretto contatto con il viso di una persona sono aperti e a parità di dispositivi di sicurezza l'estetista no nessuno ci dà risposta noi vogliamo risposte vogliamo un intervento concreto e l'intervento concreto è per prima cosa lasciateci lavorare prima ancora di chiedere aiuti vogliamo poter lavorare come gli altri nostri cugini diciamo così acconciatori perché perché se restiamo aperti riusciamo a continuare a dare servizio alla clientela il grande danno Manuela non è soltanto il fatturato che tu stai perdendo ora ma è l'abusivismo ne c'è nelle zone in cui centri estetici chiudono ma le persone e non smettono di farsi cerette di farsi le mani di farsi i piedi da chi vanno? infatti leggevo che anche qui perché sono cose che però bisogna fare emergere perché nessuno lo dice è aumentato il lavoro nero appunto l'abusivismo di cui parlavi tu perché cosa succede ovviamente alcune persone vanno nelle case a domicilio a fare massaggi cerette manicure insomma tutto quello che concerne ma si promuovono online Manuela ah pure quindi si promuovono pubblicamente su facebook e su instagram e noi abbiamo decine di screenshot alla domanda ma ti rendi conto che è illegale e io dice d'altronde i centri estetici sono chiusi in qualche modo devo lavorare e quindi questo è quello che faccio poi oltretutto mi verrebbe da dire insomma adesso senza aprire altre parentesi che magari però avremo modo di discutere poi si penalizza proprio il lavoro e il lavoro professionale delle persone al di là del fatto che non si può lavorare in nero perché è illegale però proprio si va a spezzare una catena virtuosa di professionisti che da anni portano avanti la loro missione chiamiamola così perché dopo tutti possono fare tutto è un po' quello il problema e dopo riprendere è ancora più difficile esatto come fai esatto perché poi insomma ci si sono tutte sì sì assolutamente guarda Marco io ti devo salutare ti faccio un'ultimissima domanda però rispondimi in 20 secondi ma figurati ma voi vi sentite tutelati? no? cioè avete una categoria che vi tutela? noi ci sentiamo bistrattati ci sentiamo bistrattati non ci sentiamo minimamente tutelati e non abbiamo nessuno che ci rappresenti evidentemente con un peso altrimenti avremo riaperto anche noi non c'è nessuna motivazione per cui il centro estetico non è aperto al momento in zona rossa non c'è una motivazione di dispositivi di sicurezza di assembramento di vicinanza con la cliente anche perché a maggior ragione voglio dire il barbiere più vicino al viso non c'è certamente non ci sono motivazioni e noi siamo totalmente abbandonati in tutti i modi vogliamo far sentire la nostra voce Marco noi abbiamo fatto sentire la tua voce in questo nostro spazio che comunque serve sempre il tam tam al giorno d'oggi è fondamentale quindi speriamo di aiutare in qualche modo tutte le categorie e il nostro paese casa nostra perché di questo si tratta tutti possiamo contribuire quindi grazie a Marco Postiglione ci sarà modo di risentirci a posteriore magari tra un po' faremo un ulteriore bilancio e vedremo cos'è accaduto intanto noi facciamo uscire la tua voce attraverso le fonti tv grazie Emanuele grazie grazie a Marco Postiglione grazie a voi per averci seguiti e questo è le fonti pocket news alla prossima puntata